E' Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, candidata del centrodestra alla nuova presidente della provincia di Arezzo. Tra l'altro l'unica che va appunto al centrodestra in Toscana. Sì, abbiamo accettato una sfida importante e unisi l'abbiamo vinta. Abbiamo fatto la storia dopo 70 anni, primo presidente donna ma soprattutto il primo presidente di un'altra area politica, quindi di un centrodestra unito che ha vinto grazie al forte sostegno del civismo, grazie alla partecipazione di tanti consiglieri e sindaci di ogni angolo della nostra provincia che hanno creduto con noi in una voglia ormai matura di cambiamento. e uniti ce l'abbiamo fatta, come è successo in passato per Montevarchi e come sono certa che succederà per altri comuni alle prossime elezioni. Con quale percentuale ha vinto? C'è stato anche un problema su una scheda? Sì, abbiamo contestato una scheda che tra l'altro pesava molto perché era su Arezzo, dove secondo noi era palesemente valida, non c'è stata conteggiata ma abbiamo vinto ugualmente. Quindi è stata anche una doppia soddisfazione, nonostante abbiano messo i bastoni tra le ruote la volontà poi della provincia si è espressa a nostro favore. Che tipo di segno di cambiamento vorrà dare nel suo mandato che durerà 4 anni? Sarà un segno importante per me perché andrò a lavorare in provincia come sto lavorando qui come sindaco, ovvero cercando di amministrare al meglio tutta la provincia, quindi dando pari dignità a tutti i territori, e a tutti i comuni, da quelli più piccoli a quelli più grandi, i cittadini hanno tutti lo stesso diritto di ricevere un aiuto concreto da parte della provincia per quanto riguarda le emergenze, soprattutto quindi mi riferisco alla sicurezza per le scuole e per le strade. Sarà un lavoro, mi auguro, nuovo, ovvero una provincia vicina ai sindaci, una provincia che lavora con i comuni, cosa che finora non è mai stata fatta perché questo è sempre stato un ente come del resto della regione, molto distante dai territori. E invece il mio obiettivo è quello di condividere insieme a chi amministra i vari angoli, le varie zone della nostra provincia, le priorità e collaborare insieme per fare interventi mirati su tutti i territori, interventi come ho già detto che si baseranno sulle priorità.